Voi conoscete delle relazioni, diciamo l'altra volta, che non si sostanziano della vostra psiche? E quindi conoscete quel mondo per voi di cui noi parliamo? È mai possibile che in un mondo in sé, o meglio, quel mondo per voi che voi non conoscete, intendo in realtà il mondo per voi conoscete, ma quel mondo in sé che non conoscete? Eh, quel mondo in sé? Provate a pensarci un attimo. È mai possibile che un mondo in sé, cioè il mondo in sé stesso, nel significato profondo che ha, non abbia delle relazioni? È certo che ne avrà, no? Si presume che gli esseri siano negati in qualche maniera, o no? Si presume che gli esseri siano in relazione fra di loro, diciamo che abbiano dei legami fra di loro. Tanto è vero che tutti voi lo dite, no? Per certi aspetti, la pioggia serve, no? Ecco, ecco la parola serve, vi ricordate? La parola serve a qualcosa, la pioggia serve a qualcosa, giusto? No? E se è eccessiva, non serve più, dal vostro punto di vista, provoca danno, no? Guarda caso, torna il per voi sistematicamente. Quindi dobbiamo pure ammettere che il mondo in sé si è caratterizzato da delle relazioni, ma diverse da quelle che voi conoscete. E se la mente non è quieta, voi quando cercherete le relazioni in questo mondo in sé, che cosa vedrete? Se non di nuovo la vostra psiche? Non so se è chiaro. Andate in cerca di qualcosa che vi torna o non vi torna. Ed è questa la difficoltà. Se la mente non si quieta un po', e si quieta, abbiamo sempre detto ultimamente, nel piccolo quotidiano, nel piccolo del piccolo, nel appassionarvi per il piccolo, per l'impermanenza, per il transeulte. Se non succede questo, è inesorabile che quando voi cercate le relazioni, perché vivere è relazionarsi, abbiamo detto, in questo mondo che non è il mondo per voi, ma in qualcos'altro, rischiate di nuovo di incontrare che cosa? Ciò che voi leggete di questo mondo, ma che non è questo mondo di nuovo, è chiaro? Indicavamo un'altra cosa l'altra volta che caratterizza il vostro modo di relazionarvi. Voi, normalmente, quando coltivate le relazioni, o comunque potete definire che avete delle relazioni, sono normalmente relazioni individuali, pensateci. Voi potete vivere un gruppo, no? Come in questo momento, ma normalmente per voi la relazione è sempre un rapporto interindividuale. Tanto è vero che ci sono più persone, non potete coltivare contemporaneamente le più persone, contemporaneamente, alla stessa maniera. Non è vero, non esiste, anche quando siete un gruppo. La dinamica del gruppo è diversa dalla dinamica interpersonale. Ma per voi la relazione, pensateci, è sempre una relazione interpersonale parlando delle persone, o comunque fra due soggetti, parlando di, per esempio, un individuo, un soggetto umano e un animale, un soggetto umano e una pianta. Oso dire che il soggetto umano è un sasso. Sasso, è un sasso, sì, anche con sasso, no? Pensate se siete degli amanti di certe, come dire, di certe configurazioni della natura che hanno prodotto certi cristalli e via dicendo, magari andate a cercare e poi li pulite, come dire, li catalogate e via dicendo. Mantenete una relazione, voi direste unilaterale, unilaterale in questo caso perché non c'è una risposta da parte dell'altro soggetto, ma per voi è una relazione che non osereste mai definire tale se la paragonate con un essere umano, ma se la paragonate con la vostra, dentro la vostra psiche, certo che è una relazione, riempite lo spazio di quell'oggetto lì, quindi di quell'alterità, che ovviamente è molto meno intralciante, molto meno pericolosa, molto meno, abbiamo detto molte volte, molto meno, molto meno incerta, giusto? Molto meno meno imprevedibile che quella di un essere umano.